Paura e caos stanotte nel cuore della periferia della zona nord di Napoli. Si è rischiata la tragedia per un centinaio di persone spaventate dal fuoco e dai fumi velenosi che hanno infestato le aree tra Chiaiano e Scampia. La situazione in cui versano i cittadini sono spesso state denunciate dal presidente della Municipalità Pisani e nella notte un palazzo ha preso fuoco ed un altro verso in condizioni precarie e di inabilità, suscitando panico e feriti a causa di un cortocircuito dovuto ad infiltrazioni d'acqua non eliminate dalla Napoli Servizi dal Comune di Napoli, nonostante i reclami assidui da parte della Municipalità. Il presidente della settima Municipalità, Angelo Pisani, che ha subito allertato i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, iscritto al Comune centrale per dare assistenza a centinaia di persone, tra cui anziani e bambini rimasti senza tetto a causa anche del blackout elettrico, ha segnalato ancora una volta la situazione di pericolo e di degrado. Pisani continua a denunciare l'indifferenza verso i cittadini nell'area nord di Napoli, considerata la conseguenza diretta dell'indifferenza da parte dell'amministrazione dei magistri. Stamattina alle due e mezza abbiamo voglia di avere, non sappiamo mai come, lonturino sopra la scena che abbiamo su alla loggia, non serve, è tutto rovinato, l'acqua che è piovuto a terra si sono bucati tutti i puntatori, è tutto puro, da stanotte alle due.